Sentire il sindaco di Amatrice dire il Paese non c'è più e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto. Vi chiedo di unirvi a me nella preghiera affinché il Signore Gesù che sia sempre commosso dinanzi al dolore umano consoli questi cuori adolorati e doni loro la pace per l'intercessione della Beata Vergine Maria. Lasciamoci commuovere con Gesù. E vi invito a recitare con me per questi nostri fratelli e sorelle una parte del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel primo mistero coloroso, contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemane. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo segno Gesù. Grazie a tutti.